Ruspe al lavoro a Soria. È partita la demolizione della scuola Dante Alighieri. La struttura di Via Gattoni comincia a sgretolarsi dopo un progetto di abbattimento e ricostruzione rimasto a lungo in stallo. Fu infatti annunciato a fine 2022 periodo in cui gli studenti della scuola media traslocarono nelle aule di Pesaro Studi di Viale Trieste, poi seguiti anche dagli alunni della scuola Mascarucci, successivamente alienata dal comune per riconversione residenziale. Nella nuova struttura sorgerà un polo scolastico all'avanguardia dal punto di vista energetico sul modello già intrapreso dalla Brancati in Via La Marbora. La nuova scuola si svilupperà per un'altezza di 12 metri ospitando 21 aule, 5 laboratori, 4 aule musicali, 2 biblioteche, un'aula di sostegno, 2 sale professori e spogliatoi della palestra. I lavori di demolizione sono stati preceduti da una fase propedeutica che già da due mesi ha portato a circoscrivere l'area limitandone transito e sosta. Ora il percorso di ricostruzione durerà due anni con consegna dei lavori auspicabilmente per l'anno scolastico 2026-2027 quando la scuola ospiterà studenti di elementari e medie. Nello stesso quartiere di Soria avanza anche la costruzione del polo scolastico 06 anni sulle ceneri di quello che fu l'ex asilo scarabocchio di Via Rigoni. Il cantiere punta a chiudersi nella primavera 2025.